Martedì 6 aprile le Marche tornano zona arancione e nello specifico di Pesaro Urbino la provincia esce da quella zona rossa in cui era entrata lo scorso 10 marzo. Questo significa che tante delle categorie del commercio e dei servizi ritenuti non di prima necessità bloccati finora possono tornare ora a lavorare dopo essere stati fermi per quasi un mese dalle restrizioni da zona rossa. Dopo essere spesso scesi in piazza per protestare tornano a lavorare oggi anche gli ambulanti. Questo è il mercato cittadino pesarese del San Decenzo con l'entrata in vigore della zona arancione che coincide proprio con il martedì settimanale del mercato. Un martedì non aiutato dalla pioggia ma che comunque lascia intravedere spiragli di ottimismo per quello che sono gli ambulanti e ritorno finalmente all'attività lavorativa. Finalmente siamo stati fermi fin diciamo tra virgolette troppo tempo perché non ce la facevamo più aiuti pochissimi però come si può vedere qui nel mercato c'è pochissima gente siamo contenti che siamo tornati a fare il nostro lavoro. Siamo riusciti a tornare e dai primi di marzo che eravamo fermi cominciava a diventare un po' una situazione quasi insostenibile perché le spese c'erano comunque le tasse c'erano comunque e quindi non riuscivamo neanche noi a capire perché non potevamo venire a lavorare visto che lavoriamo anche tra l'altro all'aperto. Zona arancione significa che da oggi tornano a essere aperti tutti i negozi non solo quelli ritenuti essenziali che potevano rimanere aperti in zona rossa ma dall'abbigliamento alle gioiellerie tante attività che oggi hanno cominciato a rialzare le serrande. Non tantissimi clienti non aiutati dalla giornata piovosa ma un finalmente all'unisono raccontato da tanti commercianti che abbiamo potuto sentire. È stata penalizzata tantissimo perché dall'anno scorso che andiamo avanti con queste chiusure per noi riaprire chiudere riaprire il cliente non è non è abituato è come un interruttore diciamo purtroppo siamo quelli più penalizzati insieme ai ristoratori. Speriamo che questo sia un buon inizio per tutti. Noi tendiamo tutti i nostri clienti nei nostri punti vendita che sono completamente sanificati con la distanza giusta insomma con tutte le norme che bisogna seguire. Speriamo in una bella ripresa perché comunque forse i nostri cittadini hanno potuto vedere che con i negozi chiusi il centro non è la stessa cosa. Finalmente riapriamo con tutta la nuova collezione primavera estate e speriamo di tornare gialli perché c'è anche più movimento. Com'è stata questa prima mattinata dal punto di vista della clientela? Qualcuno già stanno chiamando qualcuno entra vedono la nuova collezione e speriamo bene noi siamo super positivi. E hanno riaperto anche parrucchieri barbieri e centri estetici insomma servizio alla persona che dopo quasi un mese di chiusura lavoreranno non stop per i tanti appuntamenti arretrati. Sì dai diciamo che abbiamo per fortuna il nostro bel da fare ce la metteremo tutta a stare innanzitutto alle regole in modo che potremo lavorare serenamente e finalmente siamo tornati alla nostra vita. Grazie. 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 Grazie.